Non è facile arrivare ai quarti, siamo arrivati ai quarti, abbiamo fatto una grandissima prestazione, non siamo arrivati ai tempi supplementari, però penso che hanno apprezzato quello che hanno fatto i ragazzi in campo, questo è molto importante. Un'altra partita praticamente rovinata all'affino, un altro rigore molto dubbio dopo i due di Ascoli con l'Ascoli di sabato. Ci sta un pochino perseguitando questa situazione, è peccato perché abbiamo fatto una grandissima prestazione, i ragazzi hanno dato tutto, hanno fatto una bellissima figura e penso che abbiamo avuto anche diverse palle e gole, abbiamo messo in difficoltà una grandissima squadra come la Roma, quindi credo che questo spirito ci dobbiamo portare anche in campionato, perché in campionato non troveremo squadre con questa qualità. Quindi è normale che nei 90 minuti i davanti ai grandi campioni, che hanno grande qualità, possano fare delle giocate importanti come hanno fatto. Poi se il rigore c'era o non c'era, questo non lo so, l'abito è fischiato, accettiamo la sua decisione. È normale che noi dobbiamo guardare la realtà, la realtà è che siamo terzo-ultimo in campionato, abbiamo bisogno dei nostri tifosi, e speriamo che anche domenica con i Carpi ci saranno tanti tifosi a darci quella spinta in più che abbiamo bisogno.